Con tutta probabilità ad un telespettatore triestino che navigando su Netflix vi si imbattesse, il titolo Rappiniamo il Duce dirà poco. E per certi aspetti meglio così. Se infatti fosse a conoscenza del fatto che la pellicola firmata da Renato De Maria è stata girata a Trieste e più precisamente in Porto Vecchio, quel telespettatore sarebbe tentato di guardarlo il film e butterebbe via 97 minuti. Intendiamoci, il vecchio scalo assolve al meglio il suo compito. Vi sono state girate alcune scene ambientate in una a Milano si suppone devastata dalla guerra, macerie per macerie, dove i fascisti hanno nascosto il fantomatico oro di Dongo che una banda di squinternati capitanati da Isola, Pietro Castellitto, una delle poche cose che si salvano, decide di portarsi via prima che lo facciano Mussolini e gli altri. La premessa per qualcosa di nuovo e di diverso, ancorché collegato a Bastardi senza gloria di Kent in Tarantino, che pure datato 2009, ci sono. Però tutto si sgonfia e rallenta dopo pochi minuti, perché per l'ennesima volta un film italiano manca di coraggio. Non basta inserire un paio di brani musicali che poco hanno a che fare col periodo in cui il film si ambienta, se poi non ci si decide se spingere sui toni della commedia o del film d'azione, consegnando allo spettatore un prodotto che non fa ridere come potrebbe e non avvince come dovrebbe. Per non dire di un cast che, ad eccezione del protagonista, appare più svogliato che attento. Resta, ma solo per noi triestini, la curiosità di rivedere sullo schermo una parte della città, cosa fra l'altro cui il cinema ci ha assai meglio abituati.